Buon pomeriggio amiche e amici, come va? Come state? Spero tutto bene, ma prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista! Ciao a tutti! Io ho dato una gomitata, oggi iniziamo così con una gomitata, mi sono andata male, però a parte la gomitata che non ce ne frega a nulla tanto, il gomito si sistema in 3, 2, 1, l'importante è che non mi sia caduta una di queste bellissime ciprie, ma prima di tutto un occhio al pensiero carino di oggi! L'amore è gentile e paziente! E ce l'avete suggerito voi! È stato scritto nei commenti da una di voi, quindi grazie mille per averci mandato questo bellissimo pensiero gentile! Io sono d'accordo al 100%, se non di più, perché l'amore è vero che è gentile e paziente, infatti, io ne ho anche visto la prova, in un momento difficilissimo della mia vita è comparso, è entrato, diciamo, in scena mio marito, e in quel momento, diciamo che era un momento appunto particolare, non proprio bello della mia vita, e lui ha avuto proprio tutta la pazienza e la gentilezza necessaria per far fiorire e nascere una storia d'amore, ma l'amore in generale, no? Se innaffiato, diciamo così, come fosse un fiore, dà gentilezza e pazienza a molte più probabilità e possibilità di sbocciare. E lui ne ha avuto veramente tanta pazienza. Probabilmente, certe volte, devo farmi proprio una piccola confidenza, quando vedo che ha poca pazienza, tra me e me dico, eh sì, l'ho utilizzata tutta all'inizio. No? Perché ha avuto veramente tanta, tanta pazienza. Io vi dico solo che stavo talmente male che durante la notte mi svegliavo urlando per gli incubi. E ho detto tutto, non scendiamo nei dettagli. E lui aveva proprio la pazienza di abbracciarmi, di consolarmi, di dirmi che ora andava, sì, in quel momento andava tutto bene e che ormai gli incubi erano passati, diciamo così, no? E quindi, io vi confermo che è vero, la pazienza e la gentilezza sono veramente importanti. Bisognerebbe averne tanta, secondo me, anche con i bambini. Salute la nostra regista a starnutito in modo insonorizzato, perché lei è delicatissima, però ha fatto così col telefono, forse un po', col dispositivo, diciamo, che controlla il telefono. Stavo dicendo che, secondo me, al giorno d'oggi, è vero che, piccolo, diciamo, tra parentesi, che c'è tanta attenzione anche ai metodi, no? Montessori e tante varie cose attraverso la quale, no? Si, come si può dire, manifesta tanta pazienza anche verso i bambini. E secondo me è importantissimo. Una volta c'erano i droni controllati a distanza dalle madri, che erano le ciabatte di legno, quelle che si compravano al supermercato, no, al supermercato in farmacia, tipo del dottor Schulz, una roba così, c'erano queste ciabatte di legno che vedevi all'improvviso arrivarti in fronte, no? Non va bene neanche quello, eh? Assolutamente. Non bisogna, secondo me, dal mio punto di vista, che comunque sono una persona molto paziente, non bisogna scagliare le ciabatte di legno contro i ragazzini, anche quando non, magari, non ci ascoltano, quando ci fanno venire il nervoso, sicuramente scagliarle una ciabatta di legno non è la soluzione giusta. Con senno di poi, a noi, della mia generazione, forse a corridere, no? La storia delle ciabatte scagliate, dicevano, eh, quando lo vedevi arrivare, dicevi, chissà chi sarà destinata, se era un gruppo di più, no? Ragazzini, chissà chi era destinata, e fa ridere questa cosa, che, secondo me, è un po' imbarazzante che faccia ridere, perché quando arrivava poi in fronte a qualcuno, a mica ce lo lasciava stecchito a momenti, però, insomma, li faceva male. Ma, all'epoca, c'erano, a volte, no, dei metodi che erano un pochino rudi, diciamo così, se si può dire, un pochino più barbari rispetto a quelli attuali. In quei metodi attuali, mi sento di dire che sicuramente non viene scagliata la ciabatta di legno e nessuna cosa, diciamo, che possa nuocere, anche perché ricordo che è assolutamente vietato, no? Se prima certe cose si potevano fare, anni dopo, assolutamente, sono vietatissime. Invece, anni fa, le facevano tranquillamente alla luce del sole e nessuno diceva niente, nessuno contrariava quella mamma, se no, gli tirava la ciabatta pure a chi lo contrariava, no? Era la normalità, era quella, sgridare potentemente la creatura per fargli capire dove fosse il comando e se si opponeva ciabatta o altro. Adesso non scagliano la ciabatta, hanno il metodo Montessori, hanno, dico, eh, perché io adesso vi dico dove mi colloco come, diciamo, questione di gentilezza e pazienza, perché io sono ignorante, più che altro, il metodo Montessori lo conosco solo un po' per nome, per che cos'è in generale, ma non l'ho applicato e hanno quindi questa cosa, no? Della più pazienza rispetto ad anni fa, non scagliano appunto nulla, io nemmeno, eh, non scaglio nulla però cacciano, per così dire che è brutto dire cacciano, ma posizionano il ragazzino o il bimbo col dispositivo elettronico, perché con quel dispositivo hanno meno, tra virgolette, da fare meno rogne, meno capricci, quindi quando si va magari a un bar, a un ristorante e che già magari al bar il ragazzino appunto non è nel suo, ragazzino piccolo intendo, no? il bambino, non è, tra virgolette, nel suo mondo, no? e quindi si annoia, giustamente, mi viene da dire ma li portano l'iPad, il telefonino è successo anche a me, eh, che qualcuno se lo porta, non dico di no in giro quando usciamo se si va in vacanza, non è che posso lasciarle una settimana magari, no? senza, in realtà potrei, però magari non mi va, visto che sono sempre comunque molto buoni responsabili, mi ascoltano se dico no, non si tocca, mettete via fate i compiti, leggete un libro, annoiatevi e quindi non mi sento, diciamo, di dare delle punizioni che non sono motivate però ne vedete fissi così oppure che sono addirittura, io sono rimasta sconvolta in vacanza al mare con gli spaghetti allo scoglio e invece di guardare il mare i ragazzini con l'iPad grande piazzato davanti al tavolo che guardavano o video su YouTube di giochi, gamer cartoni animati vari su magari piattaforme anche come appunto Sky, Netflix cioè Sky Go, no? e quindi uno se lo porta e li fa guardare i cartoni animati così non si annoia così non scassa così mi fa vivere la vacanza no, io non sono d'accordo perché mentre mangi gli spaghetti per dire, non lo so alle melanzane grigliate allo scoglio a quello che volete si devono godere il momento del pasto e magari fare due parole in armonia con i familiari con la madre col padre con i fratelli se ne hanno con le sorelle se ne hanno con i nonni se sono venuti con loro ma non annullarsi e estraniarsi isolarsi e concentrarsi per tutto l'arco della giornata con un dispositivo elettronico io capisco che vi sto venendo fuori anche io da un dispositivo elettronico no? però noi stiamo interagendo chiacchierando non è un video diciamo di come si può dire nenni e canzoncine che è ripetitivo soprattutto ma stiamo secondo me per interagire nei commenti e anche intavolando un discorso posso dire di un certo livello perché a me piace anche intavolare i discorsi quelli seri non solo make up no? ed è bello perché comunque dentro di noi c'è di più come diceva anche la canzone iconica oltre alle gambe c'è di più infatti a me le gambe diciamo non me le vedete perché secondo me non ha molto senso ha molto senso invece parlare capire cosa c'è dentro di me e io capire anche cosa c'è dentro di voi interagire e condividere appunto diventando una family affiatata condividere la quotidianità anche con cose di un certo spessore di una certa importanza che hanno dei valori perché una volta c'erano sicuramente i valori di condivisione ma erano obbligati e non erano voluti erano obbligati dal fatto che non c'era nulla non c'era televisione non c'era ipad non c'era telefono non c'era internet quindi siccome non c'era nulla l'unico modo era per diciamo svagarsi un po' era interagire con chi ti stava intorno quindi per forza causa forza maggiore tutti parlavano di più parlavano tanto e se il ragazzino appunto scassava non avevano il metodo dell'ipad che c'è adesso col cartone animato e gli tiravano un drone telecomandato di legno o di quello che volete e sì che si stava zitto perché lo prendeva in fronte magari insomma dove capitava su una gamba su una mano comunque che percepiva il messaggio lo captava al volo e si zittiva sicuro in 3,2,1 e quello era un modo che io veramente non approvo non percepisco e secondo me se qualcuno ha assaggiato lo zoccolo al volo sarà d'accordo con me che se lo assaggi capisci quanto è doloroso e probabilmente e poi magari te lo lanciava anche uno che non era di famiglia perché non è detto che te lo lanciava tua madre lo zoccolo di legno poteva arrivarti anche da una qualsiasi persona per esempio del vicinato ma anche all'interno di altri contesti di altri ambiti pure perché ti prendevano per sbaglio perché io ricordo che ero buonissima buonissima da piccola buonissima e anche sempre chiedevo innanzitutto vabbè le cose basi è permesso grazie per favore tutte queste cosine qua eppure 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 e vi lascio finire a voi eppure che cosa ve lo lascio immaginare quindi io non sono per nulla d'accordo ai droni volanti di nessun tipo di nessun tipo non sono a favore perché mi tocca dire la sincera verità mi è successo di vedere anche quelli moderni dentro il nostro giardino e voglio dire ma scusami cos'è che devi riprendere nel giardino no? quindi io dentro alla proprietà privata non sono a favore dei droni andassero a riprendere dove vogliono ma non a casa le persone non sono a favore dei droni moderni non sono a favore neanche dei droni del passato quindi io cioè deve essere un uso controllato del drone moderno quello se lo vogliono lasciare ma controllato e in ambiti specifici no? in alcuni ambiti sono veramente top utili come per degli spettacoli per proiettare delle luci per fare delle riprese durante un concerto no? sono atomici per fare delle riprese particolari e quindi secondo me andrebbero usati con consapevolezza ci vorrebbe il patentino il permesso di acquistare i droni e poi anche le specifiche di come vengono utilizzati e anche tracciati gli utilizzi dei droni questo è un ambito secondo me molto delicato fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se anche a voi è capitato di fare l'incontro con un drone da vicino tra l'altro io ho sempre paura dei droni perché ho paura che siano armati no? e che mi facciano del male questa è una cosa mia no? ho paura che mi possano fare del male con un drone e direte che fantascienza non manca molto secondo me si è visto nei film e quindi a me questa cosa ha toccato parecchio fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dei droni moderni e dei droni del passato sono super super curiosa di conoscere di sapere tutti i vostri pareri e soprattutto fatemi sapere se avete mai assaggiato un drone di legno del passato oppure magari di altri materiali come l'avete vissuta che ricordo avete ovviamente solo se vi va di condividerlo potete condividerlo anche a grandi linee senza entrare nei dettagli perché a volte entrare troppo nei dettagli fa rivivere il momento e fa soffrire magari parlarne solo a grandi linee aiuta un po' a lasciare andare a dimenticare e però nello stesso tempo non vi fa non ci fa soffrire quindi noi siamo arrivati ai droni non si sa come no? però abbiamo detto che ci vuole un sacco di gentilezza e un sacco di pazienza perché volevo dirvi appunto oh scusate che prurito che nei tempi moderni bisogna avere pazienza con questi ragazzini con questi bambini perché sono innanzitutto no? come si può dire? mitragliati tempestati da messaggi tecnologici da un lato quando vanno a scuola la stessa lavagna non è più col gesso che dava calma a parte quando faceva così che facevano male i denti ma c'è la lim no? addirittura in alcune aule cioè in alcune c'è la lim e più la lavagna quella normale in altre c'è solo la lim e a volte magari c'è una lavagna tipo con i pennarelli così ma c'è solo la lim che è una lavagna moderna io non l'ho mai vista è tipo una tv dove c'è internet google e c'è anche in più una sorta di applicazione dove puoi scrivere con la penna apposta per la lim e i professori per spiegare possono scriverla ok che è una cosa diciamo bellissima perché a chi è allergica al gesso non eh sì non a chi ha la dermatite ci sono delle forme di dermatite atopica che io sono sicura che il gesso gli dà allergia di questo sono sicura al 100% quindi i ragazzini che avevano magari la dermatite atopica con il gesso delle lavagna uno usarlo loro se andavano a scrivere era terribile ma il gesso volava quando cancellavano oppure sbattevano a turno per pulirli no i due cancellini fuori dalla finestra e dentro entrava tutta la polvere di gesso io non ero allergica ma mi lacrimavano tutti gli occhi non mi dava dermatite però mi lacrimavano gli occhi mi venivano due occhi così e io mi ricordo che ognuno di noi aveva il turno ovviamente senza mascherina senza niente però c'è stato un momento in cui si sba oppure semplicemente c'era il come si può appellare il simpaticone di turno che prendeva il gesso e te lo zaccava in faccia perché li sapeva divertente oppure venivano anche scagliati per far fare silenzio a me infatti una volta me ne è arrivato uno qua di cancellino era destinato a uno dietro ma mi è arrivato a me qua e me lo ricordo ancora per esempio e quindi succedevano tante cose poi mi avevano chiesto scusa però voglio dire no anche quello era un drone telecomandato non era io ero molto sfortunata devo dire da quel punto di vista con i droni per questo non li amo però anche se non erano destinati a me li prendevo sempre in fronte o nel naso il mio naso non era così ci tengo a dirlo il mio naso mia madre me lo dice sempre tu non avevi questo naso il mio naso era diverso però a furia di prendere delle cose qua le pallonate perché io ero scarsissima a giocare a pallavolo cadevo e sbattevo sempre la faccia il naso qua e questi droni del passato io li prendevo sempre in questa zona qua tant'è che a un certo punto avevo paura per gli occhi no perché ok prenderlo qua ma se ti prende a un occhio ciao però sono stata ecco nella sfortuna fortunata perché gli occhi mi hanno beccato una volta sola negli occhi e me lo ricordo ancora terribile quello era un drone di un compagno però che lo tirava non so se a me o a qualcun altro mi ha centrato in un occhio ovviamente vi lascio immaginare il fastidio il male il dolore e il pronto soccorso di corsa per fortuna poi si è risolto però sì sul momento e anche i giorni dopo bel dolore quindi io questi droni non li amo non so se si era capito e con i ragazzini bisogna avere pazienza anche io devo dire che avendone tre voi lo sapete no? c'è la regista mia figlia che ha 14 anni lo dico per chi magari è il nuovo iscritto del canale la aiuto il regista che adesso d'estate non li avete mai sentiti perché sono sempre di fuori a giocare però probabilmente adesso come arriva l'inverno giocano di più dentro casa ogni tanto passano magari vi salutano e se gli piace l'unbox si fermano a commentare se no loro vanno diciamo più a simpatia no? degli articoli se c'è qualche cosa di cartoon allora vengono a vedere di cosa si tratta se c'è qualche unbox dell'edicola anche se no se non gliene frega niente si mettono a leggere un libro a fare i compiti oppure anche come giusto che sia ogni tanto giocano anche con come si chiama qualcosa che io non lo so quello che giocate piccolino che si collega alla televisione l'intendo ok io non ero sicura io gli dico sempre smettetela di giocare con la play e loro mi correggono perché per me i cosi collegati alla televisione sono le playstation però loro mi correggono e mi dicono non è la play è il nintendo e quindi sì anche loro ogni tanto ci giocano ma non è che sono incollati i h24 se li vedo un po' più attaccati glielo dico poi ci sono tutti i metodi oggigiorno per controllare no il parental control per le televisioni e anche il non mi ricordo come si chiama però il family controller dove voi potete vedere per i telefoni sì family link mi pare family link sì è l'app quella per controllare cosa fanno quanto lo utilizzano e tutto 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 nel dettaglio e quindi è super utile per capire a volte ecco si sbaglia perché mi dicono eh ma io in realtà non l'ho utilizzato però se l'app gli rimane aperta gli continua a segnare il tempo no di utilizzo magari rimane semplicemente aperta ma non perché l'abbiamo proprio provato a fare lasciarla aperta non ci stanno giocando controllare l'app vediamo che comunque dice che ci sta giocando quindi devono ricordarsi se non ci stanno giocando di chiudere l'app sennò gliela segna come inutilizzo non inutilizzo ma che è utilizzata in quel momento quindi lo so che non è semplice immagino che sia un po' così per tutti perché anche per me lavorando non è semplice a volte sono stanca però cerco di sedermi di fianco a loro di interagire tantissimo con loro di giocare anche con loro ma soprattutto di ascoltarli di lasciare che parlino che si sfoghino che raccontino perché è molto importante e soprattutto nei momenti anche diciamo tutti insieme si può guardare un film e mangiare i popcorn sul divano però ogni tanto si blocca la televisione si commenta quello che stiamo guardando che abbia magari anche un senso un'utilità se così la possiamo chiamare però si cerca di interagire anche durante la visione voi direte che scasso e sì perché se no però diventa lì come mumia a guardare no? per un'ora e mezza e non è bello neanche così è vero che fa più cinema però si rischia un po' di mumificarsi secondo me infatti a volte il marito mi dice eh ma l'hai finita di bloccare io gli rispondo semplicemente no perché loro piace tantissimo commentare quello che stanno guardando e bisogna avere la pazienza di ascoltarli è una cosa che spesso ai bambini e ai ragazzini va tanto di commentare quello che stanno vedendo oppure di chiedere spiegazioni e quindi bisogna ascoltarli bisogna ascoltarli quando si mangia durante il momento in cui si pranza assieme si cena assieme si fa la colazione perché è un bel momento dove possono raccontare quello che hanno nel cuore e nell'anima e anche la loro giornata cena no? possono raccontare come è andata a scuola bisogna essere presenti per controllare i compiti essere se vogliamo dire no? genitori nonni zii non è semplice perché bisogna spendere tra virgolette del tempo delle attenzioni e delle energie ma questa fa parte della vita e quindi bisogna che gli adulti del tempi moderni lo accettino no? lo capiscano questi bambini questi ragazzini ci sono e hanno bisogno delle nostre attenzioni non solo di un dispositivo elettronico che gli tiene compagnia e che se googolano cercano le risposte alle domande non è così le risposte le dobbiamo dare noi con intelligenza contatto gentilezza e anche con pazienza come dice il nostro bellissimo messaggio oggi se sentite dei rumori di sottofondo è la mia pancia che brontola sto per svenire dalla fame quindi guardiamo immediatamente il make up che dopo vado a fare una merenda allora tra l'altro sono pronta che penso di uscire tipo a mangiare la pizza e quindi oggi sono imbellettata e ingiacchettata vediamo perché qua c'è un tempo orrendo un vento terribile vediamo se abbiamo la possibilità di uscire perché ho sempre paura comunque anche abitando perché comunque in montagna qua ci sono tutti i boschi e abbiamo sempre paura per gli alberi che cadano in strada mentre stiamo passando quindi e succede succede tantissimo è una cosa pericolosa quindi se c'è tanto vento non si esce a meno che non sia indispensabile però abbiamo veramente non mare forza 9 però vento tanto allora oggi abbiamo queste ciprie che sono veramente molto belle io ho scelto di comprarle una perché erano scontatissime e le abbiamo pagate tipo 2,50 euro sul sito di Revolution ma soprattutto perché abbiamo già provato questa coconut backing powder di Revolution e mi piace tantissimo è delicatamente profumata non mi pare che abbia chissà che profumo fastidioso atomico perché sapete che a me il cocco se è troppo forte mi dà un po' noia però questa è buona è proprio leggera e mi piace tanto sia nel pack è gigante perché è veramente grande sono 22 grammi e quindi ho scelto di provare anche il gusto pesca e banana allora banana è vero ci diceva la regista questa era cocco quella che avevamo prima banana abbiamo già qualcosa perché in realtà è il colore io l'ho comprata pensando che avesse la profumazione alla banana ma voi poi mi avete detto no è solo il colore perché è colorazione alla banana e si chiama banana dreams no no idea del brand se si chiami W7 W7 in italiano se avete voglia me lo dite nei commenti so che forse ve l'ho anche già chiesto ma non me lo ricordo e alla banana abbiamo invece la Pili banana powder di revolution di fortnite è molto molto carina però questa secondo me è più carina come pack della scatola e di revolution quindi abbiamo anche questa che sa appunto un po' di banana e la revolution lace backing powder io obsessed dalle cipre di revolution mi piacciono tantissimo e fissano il make up in una maniera incredibile sono proprio belle 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 queste adesso le apriamo come capiamo se sono identiche alla revolution coconut backing powder le apro qua cosa dici o in alto come vuoi ci hanno aspettate perché hanno lo scocettino quindi lo apriamo con l'amica carotina al volo super utile sempre ce la possiamo fare è gialla ok molto carina sì questo è il pack giallo mi piace tanto le scatoline anche sono molto molto belle adesso apriamo anche questa e poi le annusiamo deve essere direi oh la pancia la sentite come brontola che vergogna allora aspettate che non voglio rompere la scatolina quindi mi aiuto con una sticca di plastica ecco fatto è bella è color pesca e mi piace perché sta benissimo con le mie unghie bellina come fanno tutti con le unghie ah vi piacciono le mie unghie sono super super lunghe non le hai più tagliate no le devo tagliare si stanno per spezzare sicuramente non hai neanche più tagliato i capelli no oic sia i capelli guardate lunghissimi e le unghie quindi penso che adesso quando decido uno di questi giorni taglio sia le unghie che i capelli eh sì ci vuole perché poi adesso mi innervosiscono sono troppo lunghe secondo me sono super carine perché anche quando le fanno no di gel cioè sembrano un po' unghiette carine no sì sì quindi per guardarle così mi piacciono però mi danno un po' di fastidio sono sincera mi innervosiscono sono un pochino troppo lunghe tra l'altro con lo smalto così è durato un sacco di giorni è vero è vero quindi forse le accorcio un po' e le smalto sempre così col top coat glitterino che mi durano tanti giorni adesso le annusiamo e capiamo se sono profumate speriamo anche un po' di c'hai quella al cocco è bianca quella alla banana è un po' più gialla è vero e quella alla pesca è un po' più rosa è vero belline molto belle saranno sigillate c'è sempre il powder puff vedete c'era il coperchio il powder puff qua non si sente ancora c'è il sigillo probabilmente sì adesso mi sbicchio l'unghia ovviamente non ce l'ha la linguetta perché non mettono le linguette perché vogliono farci rompere le unghie sto rompendo aspettate che mi concentro no ok ce la possiamo fare mi ha aiutato anche la regista e quindi c'è il prodottino così di che sta? molto di pesca è buonissimo mi ha aperto anche questa alla banana vedete per facilitare un attimo c'era la linguetta sì ma era attaccata anche la linguetta fortissimo bello questo è proprio forte 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 sa tanto di banana è banana pura buona questo sa di pesca ma è molto delicato invece quello è banana pura è vero allora io stacco gli scotch perché sapete che se no si spreca comunque la cipria si attacca tutta nello scotch adesso quindi anche qua la togliamo e non serve tra l'altro se ne fate uscire troppa dopo se fate così appunto con un po' di pazienza invece di uscire a volte rientra e se no la lasciate lì non succede nulla e il power puff è molto molto utile anche molto carino però io amo ma è giusto o sto sbagliando? no è sbagliato l'altro coperchio infatti questa è quella bisogna annusarla per capire ma è perché è più gialla la cipria quindi basta che guardi anche là ok io amo applicarla con un pennellino diciamo piccolino adesso non ce l'ho tipo questo così per fissare bene con precisione sotto l'occhio più che col powder powder puff però siccome volevo comunque provare abbiamo comprato dei powder puff altigotta perché allora questo vi dico la sincera verità tondo è un po' scomodo per fare qua così quindi non lo utilizzo tantissimo però volevo provare questi perché vedo che tanti li utilizzano e si chiamano appunto powder puff spugne per trucco la marca non so se è loop adesso le apriamo e le guardiamo un attimo e sentiamo se sono morbide come si apre qua la storia tutto complicato in questo mondo però ah ok si fa così ce la possiamo fare bastava fare così e si apriva si apre e quindi ah ok ce la possiamo fare fatto così guardate si distrugge proprio l'avevamo già inquadrato perché sì sì anche volendo e ce ne sono due belline rosa sono fatte allora così molto dietro sono rosa barbie e qua sono rosa bonbon confettino dunque si può loro dicono di utilizzarlo così io non ne avevo fatte così di qua sono un pochino più vellutate qua sono di vellutino e di qua sono più peluscette come appunto le spugnette di qua è morbidissimo questa è siccome alla regista piacciono le robe morbide questa ti piace di sicuro che morbida è morbidissima vero? no ma di qua sembra quasi più di spugnetta di velluto secondo me qua di qua sembra più tipo spugnetta di qua più peluche tipo non so io voto per il vellutino però forse si hai ragione più spugna di quelle siliconiche tipo più no beauty blender neanche un po' più silicone tipo è vero e a me ricordava il velluto la regista sta provando anche se non ha trucco fare così è morbido si è morbido ok è molto molto carino allora sono molto carine sono molto morbide non lo so se vanno anche in lavatrice dice qualcosa qua non ci dice niente forse si rovina in lavatrice eh ho paura di sì forse bisogna lavarle a mano 50% poliestere dice più 50% poliuretano non me ne intendo devo andare a informarmi e capire le ho volute provare le abbiamo pagate mi pare sui 3 euro circa al tigotà invece queste le ho pagate sul sito di revolution tipo 2 euro e 90 2 euro e 50 in super mega offerta mi pare comunque io le ho prese al 50% del loro prezzo perché erano in sconto sono molto contenta già a priori di averle prese perché comunque questa mi piace tantissimo quindi qua cambia solo un po' la profumazione e la colorazione ma sono già sicura che siamo più o meno nella stessa tipologia di prodotto polvere libera e profumata mi piacciono tanto fatemi sapere se anche voi avete provato una di queste ciprie di revolution e se sì quale gusto banana cocco oppure pesca oppure magari una di queste qua quella di fortnite alla gusto banana oppure quella semplice senza profumazione sono curiosa di sapere se avete provato le ciprie di revolution e se vi sono piaciute io sono molto più del team ciprie in polvere libera ultimamente che in polvere compatta sì perché quelle compatte mi sembra che mi saccano di più la pelle non mi trovo tantissimo però ne abbiamo ne stiamo provando anche per capire perché magari non sono tutte uguali non facciamo di tutta l'erba un fascio non è detto che magari qualcuna ci possa spettinare e ci piaccia tantissimo allora io sono super curiosa di provare le nuove powder puff mi piacciono tanto nel design nel colore nella morbidezza e speriamo anche che siano super comode da utilizzare sono molto anti stress sono morbidissime sono curiosa di sapere voi cosa ne pensate dei discorsi che abbiamo fatto oggi dei prodotti make up che abbiamo unboxato e che proveremo nei prossimi video della mattina fatemi sapere tutto 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 quello che vi viene in mente anche i vostri ricordi del passato la parola segreta di oggi è drone la sapevo sapevi se c'è non lo so la limogine del drone del drone o della ciabattina e fate se volete anche potete proprio allungare la parola segreta e scrivere drone moderno oppure drone del passato oppure addirittura ciabatta di legno per le più spiritose no? sono veramente in come si può dire curiosa e in attesa di leggervi e di sapere cosa ne pensate quindi stupiteci se vi va anche con emoji particolari adatti al video di oggi e mi sa che abbiamo detto veramente tutto la nostra dolcissima regista vuole dirci qualcosa riguardo al make up di oggi riguardo ai droni che tu non hai potuto conoscere ma penso che sia stato una fortuna penso di sì vuoi dirci qualcosa dei droni penso di essere d'accordo con te non sogni che ti arrivi un drone in fronte direi di no e per i droni invece moderni che magari balenano dentro casa in un secondo da quel lato là in effetti sì così così però diciamo che in alcuni campi sono molto utili anche per fare riprese dei paesaggi si devono fare qualche montaggio di video così quindi in alcuni ambiti sono super super utili rendono veramente affascinante le riprese dei video molto belle però non credo che a casa della gente ci sia nulla di affascinante non è molto corretto no infatti quello non lo trovo corretto non lo trovo carino però non lo so magari c'era un motivo però a noi non ce l'hanno detto e quindi se non lo sappiamo non possiamo dire questo motivo è ok vuoi aggiungere qualcos'altro? no mi serviamo detto tutto ok allora vi ricordiamo di condividere questo video con tutte le amiche e gli amici amanti delle chiacchiere in compagnia se volete anche farli ricordare i droni del passato condividete con tutti quelli magari che con voi hanno questo ricordo in comune con tutti gli amici amanti del make up e non solo no un po' tutto c'è un po' un misto frutta oggi se vi va lasciateci un pollicino telecomandato così sapremo che questo video vi è piaciuto e magari vi ha tenuto anche un pochino di compagnia se vi va iscrivetevi al canale l'iscrizione ovviamente è gratuita e come dico sempre io ci ramanchai a tragoza muru come sempre vi mandiamo un bacio grande 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 e ci vediamo nel prossimo video ciao amiche e amici fate le brave e i bravi buona serata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti